Gli vennero a cercare, andai a fare le prove, andai a suonare con un complessino, un complessino che tutti i giovani tranne il capo orchestra che era un pochettino più anziano. Abbiamo fatto questo complessino dopo 3-4 mesi, i Wonders, mi ricordo il nome, che non so neanche bene che cosa voglia dire, i Wonders, e siamo andati a suonare, abbiamo suonato per 2-3 mesi, qui e là, andavamo a Scandiano, a Pavullo, solo che una sera mi sono preso un po' giù con il direttore, capo orchestra, eccetera, e ho smesso di suonare. Il giorno dopo che avevo smesso di suonare sono andato a ballare a Leiden, c'era un locale a Modena che era molto famoso a quei tempi, sono andato a ballare a Leiden, e a suonare c'erano i Nomadi. Allora, siccome mi piaceva questo complesso, cioè la prima volta che lo sentivo, chiaramente, l'ho passato quasi tutto il pomeriggio a ascoltarli. Sarà stato un caso, le coincidenze della vita, il giorno dopo ero a casa, ho sentito suonare il campanello, sono andato a aprire e c'era Beppe Carletti, che gli avevano dato il mio indirizzo, c'era un chitarrista argentino, che il loro chitarrista che c'era quel giorno che io li ho sentiti, era partito premilitare. Così abbiamo parlato, siamo andati a fare le prove a Novi, la cosa andava bene sia a loro che a me, e così siamo partiti. Facciamo praticamente la Toscana, il Veneto, parte della Lombardia, l'Emilia Romagna tutta, e da lì abbiamo cominciato a fare, poi facevamo l'Eden di Modena, che era il locale più importante della città, che è lì poi che venne il gestore di Levico, venne a Modena con un incontro, un appuntamento con il nostro impresario per cercare un complesso, per fare due mesi su a Levico di Trento, che non sapevamo niente, ma quello sarebbe stato il nostro successo, il nostro a pedana di lancio, diciamo così. Siamo andati, infatti abbiamo concordato, siamo andati a Levico, abbiamo fatto due mesi suonando tutte le sere, e anzi la domenica suonevamo anche il pomeriggio, perciò abbiamo suonato 68 volte di seguito, senza fermarci. Quando eravamo arrivati al punto che non c'era neanche bisogno di dire la canzone che suonevamo, perché bastava che ci guardassimo, che eravamo talmente affiettati tra di noi, ma talmente affiettati che le canzoni ci venivano così, insomma, hanno cominciato i giornali, sono arrivati i capelloni, sono sbarcati i nomadi a Levico di Trento, e tutte queste cose che i giornali pubblicavano, in questo locale tutte le sere, tutte le sere, non era grandissimo, però era pieno, imballato tutte le sere, un successo, ogni sera praticamente era un concerto, anche se noi suonevamo dalle 9 di sera fino a l'una del mattino, cioè non è che facevamo 20 canzoni, andavamo avanti 4 ore, e da lì che è nato, secondo me, credo di non sbagliare, l'interesse di Corrado Bacchelli, che fu il nostro produttore, a proporci un provino da fare con una casa discografica, il che noi non credevamo ai nostri occhi, ai nostri orecchi in questo caso, e abbiamo accettato, siamo andati là, abbiamo provato, ho fatto queste due canzoni, che erano poi Donna la prima donna, e il retro giorni tristi, che inizialmente veniva poi distribuito solo nelle zone dove eravamo conosciuti. E' nato il primo contratto con la Eme italiana, che allora noi incidevamo per la Columbia, con l'etichetta Columbia, ed ha lì nato poi l'idea di come potete giudicare, che fu il nostro secondo disco. Ma a Totò abbiamo avuto quasi nessun rapporto, l'abbiamo incontrato per caso, perché si girava un film a Roma, noi eravamo suonare al Piper, abbiamo visto Totò, ma non ci siamo neanche parlati, sapevamo che in quel film lì ci doveva essere Totò, ma è iniziato, è finito lì il rapporto, perché non ci siamo neanche, lui non ci conosceva, noi lo conoscevamo chiaramente, perché Totò era già famoso, ma dopo ci hanno detto, nel film c'è anche Totò, perciò nel rapporto con Totò quasi niente. Fellini ci portò il nostro produttore, Corallo Bacchelli, un appuntamento, sembrava che si dovesse fare un film, allora a quei tempi si parlava che l'attore principale fosse Peter O'Toole, ma non si sapeva bene che film. Allora abbiamo avuto questo incontro con Fellini, abbiamo parlato un po' del più e del meno, perché lui più che altro ci misurava la febbre, era nel senso che ci faceva un po' parlare, per poi trarre le conclusioni, vedere la possibilità di inserirci in questo tipo di film che lui aveva in mente. Non so se poi abbia usato un filmato o meno, so che qualcosa è uscito in un film di Fellini, però non perché noi l'abbiamo girato direttamente con Fellini, ma sempre per i filmati utilizzati. Non eravamo mai stati in un contesto del genere e per noi era una cosa nuova, cioè avvertivamo a fior di pelle che stava succedendo qualcosa con il primo cantagiro. Inconsciamente, ma anche consciamente, pensavamo che questa è la nostra occasione. C'era un orario di partenza, ogni giorno si faceva una città, però aveva molte ore libere, molte ore libere nel senso che poi alla notte si andava sempre a letto tardi, per cui al mattino si dormiva, poi c'erano sempre le prove, le prove per la regia televisiva, tutti i giorni nel posto dove si arrivava, a parte la trasferta che a volte era breve, ma a volte non era poi così breve, magari 150 km, a seconda della città dove si andava. Nel primo cantagiro c'era proprio il girone dei complessi, e allora eravamo 10 complessi, tra cui c'erano i Corvi, c'erano i Rocks, l'Equipo 84, c'erano i Camaleonti, i Dick Tick, e così ci si conosceva tutti, ciao, ciao, come stai, saluto, così qualche volta capitava anche che mentre uno provava, quell'altro era giù, si facevano due chiacchiere, ma proprio amici, non c'era una frequentazione per cui si diventava amici, trovevamo delle zone che la gente era tutta per strada ed era molto bello anche, perché tutti gli applausi, c'erano in certe altre zone che addirittura non volevano vedere i capelloni e ci hanno anche un po', diciamo così, se non minacciato, quasi, ecco, cioè nel senso, un po' maltrattati, diciamo così. Sempre dalla Svizzera siamo andati a suonare una volta a Winterthur, su da Zurigo, su quelle parti lì, e dopo che avevamo suonato, che era un po' un club per italiani, però non italiani che si aspettavano di sentire o Sole Mio o che ne so, cioè italiani immigrati, non era certamente il genere che noi facevamo, cioè noi avevamo tutto un altro genere. E dopo che abbiamo fatto la serata, che mi ricordo, siamo andati in un locale, andiamo a bere una birra così e poi ci hanno, come siamo entrati, ci hanno detto Alt, un tizio che era lì, dove andate? Andiamo a bere qualcosa. Siete italiani? Sì. Venite con me, ci ha accompagnato fuori, c'era un cartello scritto in tedesco che poi sono stati tolti, vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Ce l'ha tradotto lui perché era scritto in tedesco e così ci siamo rimasti. Io che poi sono sempre stato un litigone, nel senso che ci mettevo due secondi a montare su, come a Udine o Pordenone, Pordenone era, c'era la fiera di Pordenone e siamo andati a suonare e a questa fiera già eravamo abbastanza famosi. Bella serata, successo, tutte le ragazzine lì attorno, eccetera. Poi finita la serata, autografi a destra e a sinistra come al solito, tutto bene, sono andato per incassare i soldi, c'era un ragioniere della fiera, incassato, che era nero con un cappello da prete, non so perché poi, dopo l'ho saputo perché. Mi paga senza dire bravi, è andata bene, che ne so. Niente, mi paga, vado via, grazie, arrivederci, lui non mi ha neanche salutato e sono andato via. Mentre stavamo per andare via e già pronti per montare in macchina per partire, arriva sto ragioniere e dice, oh, proprio con il gesto così, c'è da pagare le bibite lì, nessuno ci ha mai fatto pagare una bibita al complesso, l'orchestra, il cantante, insomma, non esiste, non ci pensevamo neanche, non era cattiveria la nostra. Ma guarda che le bibite, il solito ce le ho, sono quella, questo qui mi fa, al massimo vi posso offrire il barbiere. Beh, io a quel punto lì non ci ho più visto perché c'era Augusto di fronte a lui, che gli ha detto questa cosa, io ero di fianco a Augusto, ho tirato via Augusto e gli ho molato in mezzo a fine. Alzi i sospiri di Becchini, suonatori d'organino, perché... a tutti i sospiri di Becchini, a tutti i sospiri di Becchini, e... a tutti i sospiri di Becchini, a tutti i sospiri di Becchini, Grazie a tutti